Inizia il conto alla rovescia San Giovanni Lapunta per la consegna di due importanti opere pubbliche. Si tratta del parcheggio di via Verdi a Trappeto e di via Macello che vedete proprio alle mie spalle. In questo momento una squadra di operai sta completando i lavori, in questo momento occupati nella pavimentazione. Manca davvero pochissimo, circa un mese per il completamento di questo spazio e invece per quanto riguarda via Verdi circa una settimana. A fare il punto sulla situazione dei lavori il primo cittadino Antonino Bellia. Il parcheggio di via Macello è un'opera attesa da tantissimi anni, siamo riusciti con un'attività portata avanti dalla passata amministrazione a finanziarlo con fondi del bilancio comunale e oggi lo consegneremo tra circa una ventina di giorni e un mese al massimo alla cittadinanza. Un parcheggio che darà la possibilità a tutti coloro i quali si regeranno all'ufficio postale di poter parcheggiare in maniera agevole senza lasciare magari i mezzi in maniera così disordinata tanto da incorrere magari in qualche sanzione. Sarà anche uno spazio che potrà essere fruito da coloro i quali accompagnano i propri figli presso la struttura comunale dell'Asilo Unito per cui servirà anche a servire questa zona che aveva necessità e esigenza da tempo di uno spazio più funzionale proprio per questi servizi essenziali sul territorio. La struttura di Via Verde è già anche questa indirattura d'arrivo, questa è un'opera che abbiamo in qualche modo sostenuto anche con la nostra amministrazione appena insediata, un'opera che è stata realizzata a seguito di un accordo procedimentale con un privato a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione. In un contesto anche del nostro territorio dove c'è sempre più l'esigenza di dare un servizio alla collettività che favorisce anche la possibilità a tutti di poter fruire di quella zona dei servizi e dell'attività commerciale nel centro urbano in maniera serena, agevole, potendo anche parcheggiare la macchina in una maniera anche abbastanza funzionale, abbastanza da questo punto di vista serena per poter in qualche modo anche accingersi a quelle che sono le esigenze e le attività di ognuno.